quesito di fisica quinto anno vediamo il seguente quesito il testo dice questo un conduttore di lunghezza 2 metri in massa 800 grammi scivola in caduta verticale con attrito trascurabile lungo due guide metalliche verticali collegate da una resistenza di 2 ohm come mostrato in figura quindi qui abbiamo una resistenza di 2 ohm queste sono le due guide verticali questa è la barra diciamo il conduttore che scorre naturalmente verticalmente lungo questi due binari ho rappresentato il peso del conduttore mg e verso l'alto agisce la forza di lorenzi che moltiplica l vettore b vediamo cosa chiede il problema dice perpendicolamente al piano delle guide agisce un campo magnetico con modulo pari a 0 5 tesor un campo magnetico uscente calcolare la massima velocità di caduta del conduttore trascurando la resistenza dell'aria vediamo come procedere importante è capire che è un problema che riguarda l'induzione elettromagnetica quindi la spira formata dalla resistenza dal conduttore e dalle guide verticali naturalmente la parte superiore questa varia area quindi abbiamo una variazione di flusso per cui esiste una corrente indotta nel circuito ricordo la teoria la femmi indotta uguale intere ciclo di escala e di l uguale a meno derivata del flusso rispetto alla variabile tempo possiamo anche parlare di un rapporto incrementale delta fi rispetto a delta con una variazione di flusso finita l'integrale di superficie di b scalare delta s rappresenta il flusso del campo magnetico b naturalmente noi non faremo un integrale ma faremo una un prodotto di area naturalmente per b che uniforme e costante perché l'intera porta a questo risultato nell'ipotesi che la barra si muova di modo rettile uniforme ci portiamo a dire ecco che la femmi indotta è uguale a meno b lv naturalmente il verso della corrente indotta è tale da generare un campo magnetico che si oppone alla variazione di flusso e la indotta è femmi fratto r quindi la indotta la corrente indotta da questa variazione di flusso e b per l per v fratto r r è la resistenza del circuito quindi noi abbiamo praticamente fatto questo ragionamento qui abbiamo derivato il flusso ricordiamo che il flusso è aria per b l'aria è v per t per l ricordiamo che l'aria dell'aspirato è presente la resistenza e torniamo un attimo indietro con le figure è data dal prodotto della larghezza questa per questa che è la lunghezza l che tende naturalmente quindi noi chiamiamo x questa lunghezza verticale l è la lunghezza della barretta ecco quindi quando faccio il prodotto di x che v per t per l ottengo quello che ho scritto qui quindi x per l quindi ripeto x dimensione verticale della spira l è quella orizzontale ma x v per t nell'ipotesi di movimento diciamo traslazionale uniforme con velocità v otteniamo il flusso come il prodotto di v per t per l per b derivando rispetto alla variabile tempo perché qui abbiamo una derivata rispetto al tempo ottengo quella che si chiama la femmi indotta che genera una corrente indotta questa formula è importante perché la utilizzeremo per calcolare la forza di Lorentz la forza di Lorentz ricordiamo che per un filo percorso della corrente è uguale ad i per l vettore b naturalmente ecco se io ho un filo percorso della corrente immerso in un campo magnetico esso è soggetto a questa forza di Lorentz questo l'abbiamo detto questo prodotto vettore si produce un prodotto scalare nei termini del modulo di f pari di per l per b per centeta prodotto un correggo il prodotto vettoriale f uguale ad i per l vettore b genera il valore scalare di f cioè il modulo di f come i per l per b per centeta ricordiamo che il seno dell'angolo compreso tra vettori l e b è un 90 gradi per cui il seno di 90 gradi vale 1 quindi il modulo del vettore f forza di Lorentz è uguale a v per l per b naturalmente qui noi utilizzeremo al posto di la corrente indotta che abbiamo già calcolato che è questa e naturalmente b rimarrà tale e quindi io qui avrò corrente indotta che è questa per b per l che porta ad ottenere una forza di Lorentz pari a b quadro l quadro v fratto la resistenza aerea del circuito normalmente quando è che abbiamo la massima velocità ricordiamo che sta il conduttore scorre lungo le due guide e quindi acquisterà la massima velocità quando quando la forza di Lorentz ha lo stesso modulo diciamo della forza peso da questa eguaglianza io ottengo v massimo formula inversa quindi questa è la forza peso e questa è la forza di Lorentz che abbiamo ricavato sopra ricavo quindi v massimo m g per r fratto b quadro l quadro sostituendo i dati che abbiamo nel problema la resistenza di due uomo del circuito il b 0 5 tesla il campo magnetico in cui è immerso il circuito a b e la lunghezza del conduttore quella che noi abbiamo chiamato l nella formula corrisponde naturalmente a 800 milligrammi cioè 800 grammi trasformando in nelle opportune unità di misura quindi metri chilogrammi otteniamo una velocità massima raggiunta dal conduttore a regime di 15,7 metri al secondo ecco a questo punto possiamo dire che la video lezione termina qui e si invita la luna a consultarne altre relative al problema della induzione elettromagnetica fine della video lezione